I saldi sono un'opportunità di risparmio per i consumatori che possono acquistare ad un prezzo inferiore i prodotti adocchiati da tempo. Ma la cosa importante è mantenere un approccio critico e consapevole senza farsi prendere dall'entusiasmo. Il rischio truffa è sempre dietro l'angolo e per questo bisogna valutare attentamente la reale convenienza di ogni acquisto. Domani, 6 luglio, in Abruzzo iniziano i saldi estivi e il presidente regionale di Adconsum Luigi di Corcia fornisce alcune semplici regole e utili consigli per chi fa shopping. Questo è un periodo particolare, chiaramente bisogna stare molto attenti a quello che si compra e a verificare anche la qualità della merce che viene messa in saldo, perché in alcuni casi abbiamo riscontrato che era merce che non era precedentemente inserita sugli scaffali che invece viene proprio appositamente inserita per il periodo di saldi e che magari è un po' più vecchia e un po' più datata rispetto agli ultimi arrivi. In caso di prodotti fallati o rovinati, cosa bisogna fare? Bisogna immediatamente riportarli in negozio, si ha una garanzia biennale prevista per legge dal codice del consumo. Questa garanzia garantisce anche i prodotti in saldo, assolutamente, devono essere o sostituiti o in caso di, chiaramente non di abbigliamento, ma in caso per esempio di acquisti di beni elettronici che possono essere anche riparati. Se non si riesce né nella sostituzione perché magari i pezzi sono limitati, perché sono proprio stati messi in saldo, oppure non si riesce nella riparazione per ciò che può essere anche riparato, allora deve essere restituito il prezzo pagato al consumatore che ha avuto questo disagio. Sugli sconti praticati come bisogna orientarsi? Sarebbe l'ideale costituire un osservatorio prezzi, anche in regione Abruzzo che non ce l'ha, proprio per poter fare una verifica adeguata rispetto a ciò che viene messo in saldo al prezzo precedentemente utilizzato per lo stesso prodotto e a quello che poi viene effettivamente posto negli scaffali successivamente nel periodo dei saldi. E quindi fare questa comparazione secondo me potrebbe essere estremamente utile ai consumatori per poter poi effettivamente verificare che quella scontistica è reale e non è una scontistica artata.